Siamo con Emma, in realtà Bianca sul palco scenico dell'Arison. Da dove nasce la scelta di questo nome? Ma Bianca è un augurio che io faccio a me stessa, finché da ora in poi è stata la parte bianca di me, visto che è sempre uscita quella nera negli ultimi anni. Come stai vivendo questa esperienza? Quali sono le prime impressioni di questo festival? Beh, mi sento molto spaisata, un po' sballottata, però è un'emozione nuovissima, questa è stata l'esperienza migliore della mia vita, non vedo quella di salire sul patino. Quindi l'emozione è tanta? È un'infinità, tantissima. Grazie, in bocca al lupo. Sì, grazie.